Oggi una Giorgia Meroni e un Calderoli che sotto il Ministero dell'Istruzione tagliano in due l'Italia. Cosa sta a significare questo flash mob? Per quanto ci riguarda la distruzione del sistema nazionale pubblico di istruzione, appunto. Cioè questo vuol dire non più la scuola pubblica che abbiamo conosciuto, ma una scuola con delle differenze. E i ragazzi e le ragazze sono qui di fronte al Ministero dell'Istruzione perché c'è una responsabilità anche del Ministro. Il Ministro Valditare che tra l'altro aveva dato anche assicurazioni che il sistema di istruzione sarebbe stato fuori dall'autonomia differenziata, così non è. Si rende responsabile per quanto ci riguarda se questo progetto andasse avanti di un gravissimo vulnus a uno dei principali diritti costituzionali di questo Paese, il diritto all'istruzione. Noi siamo in piazza, il 7 è anche per questo. Valditare deve leggere la Costituzione italiana, prima la deve cambiare e poi forse può fare quello che è nel suo intento di fare. Nella Costituzione italiana è lo Stato che garantisce le scuole aperte a tutti e a tutti in ogni ordine e grado. E si parla di scuola pubblica, non di scuola privata. Credo che le dichiarazioni che ha fatto oggi, che ha reso oggi in un'intervista, ma anche quest'ultima, siano assolutamente in contrasto con quelle che sono le necessità del Paese, cioè dare risposta alle disuguaglianze e dare opportunità per tutti e per tutte, non soltanto per una parte. Il flash mob di oggi ci prepara alla manifestazione del 7 ottobre, una manifestazione dove si porterà avanti proprio la tutela della Costituzione. Certo, i diritti costituzionali, quelli di cittadinanza, quelli che legano il Paese contro qualsiasi disgregazione o tentativo di disgregazione per dare risposte alle condizioni materiali dei lavoratori e delle lavoratrici, ma direi dei cittadini e delle cittadine, perché parlare oggi di diritto all'istruzione, diritto a una sanità per tutti e per tutti, interessa non soltanto ovviamente chi lavora, ma interessa a tutti. Queste sono alcune delle questioni che noi porteremo in piazza, urleremo il nostro no al progetto di autonomia differenziata e chiederemo le risorse necessarie per garantire salari dignitosi in un contesto davvero molto complesso per il Paese.